Quest'oggi con Adoc Taranto e con il responsabile dell'area legale, l'avvocato Francesca Bommino, affrontiamo un tema, oserei dire, di terribile attualità, quello appunto delle frodi informatiche. Buongiorno, quello delle frodi informatiche è un argomento di tragica attualità perché colpisce tutti i cittadini di qualunque fascia d'età e di qualunque cosa si occupino. Quando si parla di frodi informatiche parliamo essenzialmente di truffe perpetrate ai danni di cittadini anche di più accorti a volte. Sostanzialmente si dividono in due grandi categorie, c'è il vero e proprio furto di identità e poi c'è la forma più comune che è il cosiddetto pishing, chi commette questi reati sostanzialmente è un cosiddetto hacker, cioè un pirata informatico che attraverso tutta una serie di stratagemmi riesce a carpire dati sensibili e informazioni rilevanti dei cittadini come numeri di conto corrente, PIN, numeri di carte di credito. E la cosa più grave è che si sono così specializzati, sono diventati così bravi questi hacker che oramai riescono ad utilizzare metodi sempre più difficili da riconoscere, cioè molto spesso, nella quasi totalità dei casi, inviano a soggetti di diversa natura delle mail o dei messaggi anche su WhatsApp a volte spacciandosi per delle banche e dal punto di vista grafico i siti ai quali si aggancia il link sui quali chiedono di cliccare sono quasi identici a quelli reali. Perciò il consumatore, il cittadino ignaro, credendo che si tratti di una comunicazione della propria banca, clicca su questi link e poi in questo modo il pirata informatico riesce a collegarsi ai dati del dispositivo dal quale ha cliccato e a rubare tutti i dati che contiene. Quindi riescono anche, purtroppo è capitato di molti cittadini ai quali sono riusciti a svuotare il conto sostanzialmente, risparmi di una vita che si perdono in pochissimo tempo. Fortunatamente l'ordinamento giuridico ha adottato una disciplina specifica per tutelare questi cittadini, proprio perché non è il cittadino che per leggerezza fa delle cose che non dovrebbe, magari si tratta di persone anche molto esperte con questi strumenti che data la bravura di questi soggetti cadono nella loro rete. Perciò la cosa importante, quello che noi consigliamo sempre a chi si rivolge a noi, è di quando si rendono conto di aver avuto un problema del genere di rivolgersi innanzitutto immediatamente alla propria banca chiedendo di bloccare tutti i conti e poi all'autorità giudiziaria, provvedendo anche con delle querele che saranno contringuti ovviamente, ma che sono cautelative. Fortunatamente l'orientamento delle corti in questo periodo è piuttosto favorevole al consumatore, perché a meno che la banca non riesca a provare di aver adottato tutte le misure tecniche che esistono per bloccare questi eventi di questo tipo, molto spesso sono costrette a risarcire il cittadino che ha subito un danno di questo tipo, a meno che non si prova che c'è stata proprio una leggerezza del cittadino.